1-09-37-5 Marchese Malaspina, perché le tue letture sono Sempre bella Perché è ora che tu scenda dal castello e vada all'Ottica di Rio per vederci chiaro È ora di vederci chiaro Ottica di Rio, da quasi 60 anni si prende cura del tuo benessere visivo Vieni a trovarci in Viaggio Bertinove a Bosa Telefono 0785-377-219 E ricorda, puoi pagare in comoderate mensili senza interessi Buongiorno, sono la Marchese Malaspina Digito, digito, è ancora digito per cercare di collegarmi all'interno Ma ho chiesto di mio testo Mi domanda che mi viene voglia di tagliarmi le dita Voi di WebCopy potete... Mi sono certa E vi prego, prima che il Marchese Malaspina Per davvero E nel posto... Con la... Inverta internet senza limiti WebCopy Connessione wireless ADSL Senza fili Basterà installare un'antenna E sarete subito collegati alla reddita WebCopy Air Potrai averlo anche tu Allo 0785-3720 11 a info chiocciola WebCopy.info L'avventura del segnale comprende l'area urbana di Bosa Bosa Marina Turas Magomadas Marina di Magomada In Ura Sun Con una venda davanti agli occhi Raccontami di quali i guai Radio Planangia Musica Informazione Sport Cultura 24 ore su 24 . . .